Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi con noi Marco Cossolo, Presidente di Federfarma Nazionale, per parlare di DM71, il provvedimento in corso di discussione che rivoluzionerà completamente l'assistenza delle cure primarie sul territorio. Presidente Cossolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. È interessante in questo quadro capire quale sarà il ruolo delle farmacie. Intanto le chiedo di spiegarci bene di che cosa si tratta, che cos'è il DM71 e quali sono i capisaldi di questa riforma. Il DM71 è un atto amministrativo richiesto dalla comunità europea che serve a spiegare che cosa si fa nei luoghi che vengono costruiti con i soldi del PNRR. Noi abbiamo chiesto un finanziamento col PNRR che riguarda la sanità, missione 6 e missione 5, con l'obiettivo di territorializzare la sanità. Questi soldi vengono utilizzati per investire sulla sanità territoriale, in ARD, case di comunità intese come luogo fisico, ovvero anche farmacie intese come posto dove si comprano degli strumenti, tipicamente i rurali. Il DM71 deve dire, un atto amministrativo del Ministro della Salute, deve dire che cosa si farà in questi posti nei quali si sono investiti oltre 20 miliardi più una certa parte della missione 5. Quindi bisogna dire che cosa si fa all'interno e questo è quello che è successo. Nel documento è presente un paragrafo espressamente dedicato alle farmacie. Qual è il ruolo previsto per le farmacie in questo in questo contesto? E' previsto un paragrafo specifico per le farmacie, per il farmacista che vi opera. Come sapete c'è stata tutta una diatriba circa la presenza del farmacista o meno nelle case di comunità. Diciamo è stata espressa una posizione di Federpharma che è stata espressa una posizione di altri, e non mi piace dire chi sono, alla fine il documento è uscito con la posizione che era stata rappresentata da Federpharma ed era la posizione originale del Ministro della Salute, non è che mi voglio prendere meriti che non ho. Era la posizione originale del Ministero della Salute che era stata, diciamo, assolutamente condivisa da Federpharma. Altre strutture tecniche del Ministero e della Conferenza Stato-Regioni avevano proposto delle soluzioni diverse che sono state respinte sia dal Ministero della Salute che da Agenas che dalla Conferenza Stato-Regioni all'unanimità. Ergo sono state definite che il farmacista che opera nell'interno del team territoriale è il farmacista di comunità che fa sostanzialmente tre cose, dispensa il farmaco attraverso una modalità nuova di dispensazione che è la cosiddetta dispensazione attiva o professionale che verrà codificata con la nuova remunerazione, fa prevenzione primaria e secondaria, ovvero nient'altro che quello che abbiamo fatto con i vaccini, con i tamponi, oltre che a partecipare a campagne di screening, fa inoltre monitoraggio dell'aderenza alla terapia e dell'andamento del paziente cronico attraverso specificatamente servizi di telemedicina e analisi di prima istanza così come previsti dalla finanziaria 2020. Questo è quello che c'è scritto. Rispetto alla telemedicina stiamo lavorando perché i due verticali che comprendono il telemonitoraggio e il teleconsulto scusate, il telemonitoraggio e la teleassistenza abbiano alla base tra i fornitori di dati, i produttori di dati, anche le farmacie. Questo è quello che c'è scritto. Presidente, quanto è stato determinante su questo fronte il lavoro svolto dai farmacisti in questi due anni? Beh, è stato sicuramente molto importante. Io devo dire che i farmacisti, a differenza di altre categorie, ma questo è sotto gli occhi di tutti, hanno dato buona prova di sé nella gestione della pandemia. Partendo dall'inizio, le cose più banali, ci siamo resi disponibili a preparare il gel, quando il gel costavano, quando quattro barattoli da 80 ml di un noto gel costavano 80 euro su internet, noi abbiamo messo a disposizione gli stessi barattoli di 5 euro l'uno. Tanto per citare il primo esempio. Abbiamo fatto la scelta forte di rimanere aperti, abbiamo fatto la scelta forte di collaborare con lo Stato, di metterci a disposizione, e abbiamo dimostrato che sostanzialmente senza farmacia non si è fatta sanità territoriale. Questo è stato, è anche, diciamo, oggetto di quello che stiamo discutendo oggi, cioè la distribuzione per quanto del Paxlovid. Si è capito che un farmaco che va dato entro 5 giorni dall'insorgenza dei 3-5 giorni non si può distribuire senza i medici di medicina generale e farmacia, senza farlo prescrivere i medici di medicina generale e farmacia. Quindi direi che quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. I farmacisti, le farmacie, Federpharma, la federazione degli ordini, tutti insieme abbiamo lavorato in momenti di grandi difficoltà, senza mai avere reazioni isteriche, senza farci prendere la pancia, sempre ragionando con la testa, e credo che questo abbia nel tempo pagato. Poi lo giudicheranno gli altri. Per chiudere, tornando a DM71, a che punto è l'iter legislativo e quali sono i prossimi step previsti? L'iter legislativo in conferenza Stato-Regioni sapete che la Campania non ha dato l'intesa, no? L'intesa per passare deve essere all'unanimità. La parte in discussione non riguarda le farmacie, sia che al contrario il testo che era stato modificato dalle strutture tecniche, è stato ripresentato così come vi ho descritto precedentemente, ed è stato ripresentato dall'assessore Moratti, nella fattispecie, è avuto l'assenso dell'Agenas, via libera ministeriale, soprattutto il voto unanime di tutte le regioni. Purtroppo c'è una parte che riguarda il finanziamento di personale nelle case di comunità, che non ha ancora avuto l'intesa, perché ci sono posizioni differenti. C'è chi sostiene che all'interno di questo DM ci devono essere fonti di finanziamento, chi sostiene che non ci devono essere. Non è una roba che mi riguarda, le farmacie li finanziano da sole, non è un problema mio, mi dispiace, secondo me è molto importante che si vada avanti, perché voi sapete che se questa roba non viene licenziata entro giugno, perdiamo la prima trage di finanziamento. Anche se le farmacie non aderivano alla missione 5, noi perdevamo la prima parte di finanziamento. Fortunatamente su 500 farmacie date come obiettivo, siamo già oltre 750, quindi noi abbiamo fatto il nostro. Spero come cittadino italiano che il buon senso prevalga, come rappresentante di categoria non è un problema che mi tocca. Bene, ringraziamo Marco Cossolo, Presidente di Federfarma Nazionale, grazie ancora, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci. Grazie. Grazie.